Ciao a tutti ragazzi sono di nuovo io Simobrix e oggi siamo qui con un video acquisti Speed Champions! Primo, Chevrolet Camaro Drag Race Ok? Giusto per farvi capire meglio E poi, Audi R18 E314 E per il mio compleanno Eh eh, importante Beh, niente ragazzi Farò presto, farò delle recensioni, adesso filo a montarle Ciao e alla prossima!